Allora, non sembra ma sono incazzato come una padella, come una padella a scotte. Allora, il 5 gennaio stavo guardando le mie cazzate su Facebook e trovo una notizia, una notizia tremenda. Sulla pagina ufficiale di Star Wars Italia c'era scritto Manca un anno all'uscita di episodio 7. Eh? Come manca un anno? Ma che cazzo? Ma se sei fuori? Ma voi che siete gli ufficiali avete fatto una cazzata così? Ma no, ma siete fuori di testa, ma siete sballinati duri. Star Wars, adesso ve lo dico io, esce il 18 dicembre del 2015, cioè il 18 dicembre di quest'anno. 20 giorni prima del 5 gennaio. No, non il 5 gennaio. Avete preso un granchio, avete detto una cazzata. Cioè, non è possibile. No, ma ve lo garantisco. Esce, esce in tutto il mondo. Cioè, in tutti i paesi del mondo. Sì, te lo garantisco. Ma mio cugino, Walter Perlizzani, che vive nel Djibouti, mi ha detto, ho già prontato i biglietti. Il 18 vado al cinema, le dune, a vedere Guerre Stellari, episodio 6. No, ma il Djibouti, però, un po' in là, no? No, ma veramente, ci sono già i cartelloni fuori. Ma se non ne abbiamo fatti i cartelloni? Eh, li abbiamo fatti noi qua, con Iperarelli, perché tanto qua nel Djibouti cosa vuoi che ci arrivi? Hai capito? Nel Djibouti? Grave, c'è. Allora, allora ho detto, guarda, se essi nel Djibouti, il 18 dicembre, noi ci siamo italiani, ci siamo una nazione di sburoni, di quelli proprio. Cioè, noi abbiamo il Colosseo, noi abbiamo Venezia, cioè Leonardo da Vinci, roba nostra, capito? Cioè, mica cazzo, sto parlando di sburoni epocali, capito? Cioè, noi abbiamo della roba che, cioè, ma se sei fuori, ma cos'ha l'America? L'America cosa c'ha? L'Empire State Buildings? Cosa c'ha? Los Angeles? Dai, noi siamo gli sburoni, noi abbiamo l'Italia. Vuoi che proprio nel paese più sburone del mondo diano un film come Star Wars? Cioè, parliamo di un evento, un evento scicolare, un evento di quel che resterà, si dice che nel 3060 il nuovo eremita sburone religioso avrà nelle tavole, nell'undicesimo comandamento sarà Star Wars Episodio VII, cioè, capito? Cioè, proprio una roba, sarà una di quelle robe, si dice che ci sia anche Dio dentro quel film, tra l'altro. Cioè, proprio ci sono tutti, c'è una sburonata di quelle, proprio, catatò, capito? Sai già, vuoi che, cioè, ma sai, ma sei fuori, mi tocco la curiosità, chiamo Walt, che tanto lo conosco, due secondi, pronto Walt? Sì, ciao, son Roby, sì, il Patacca della Romagna, sì, l'impero bizantino, Teodorico, Giustiniano, sì, sono io, sì, ciao. Ascolta, ho parlato con mio cugino del Djibouti, no? E mi ha detto che da lui esce, sì, esce di solito anche nel Djibouti, sì, sì, in Fazzi, Mary Poppies l'ho visto, ma, eh, volevo capire, in Italia, quando esce? Il 5 gennaio del 2016? Puttana, il 5 gennaio, ma da noi, ma noi che c'abbiamo il Colosseo? Cioè, noi che avevamo mai buongiorno? No, Roberto Baggio, noi? Ah, va bene. M tua,'? M tua bia? Ma che se è qui? M tua bia? M tua bia? E la bia? Ma tanti? M tuo bia? M tua bia, ma vaca, ma... Ma vaca, ma V brewing, am' della p... p....ta! Verda, che tu... Ma non mio? Mi avendoci? Ma ogni me avendo li sei ma... Ma che, ma io poff, in tempo, ecco, sembrava... Nie ma... Pfora, doide un 15 genere... Cioè, una roba fuori dalle... Cioè, una roba in cri... Cioè, ma... Scusate, vi chiedo scusi per questa mia defianza, ma... Cioè, ho i marroni che... Cioè, i marroni che stanno giocando a calcio con il primo bim per terra, perché io non so veramente... Non so veramente chi sia il patacca. Pò, patacca, mi stai guardando? Sei lì, patacca. Tu, che hai deciso questa cazzata... Uno, come ti chiami? Due, spiegami perché questa cazzata che ti sei inventato. Spiegami questa cazzata. Cioè, che cosa vuol dire? Perché non dobbiamo essere gli ultimi? Perché? Spiegami la motivazione valida del perché l'Italia è un furoncolo nel culo delle uscite di Star Wars nel mondo. Perché? 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 Qual è la motivazione che ti spinge a far sì che una valanga di fans appassionati che vivono la passione di questa cosa in un modo esagerato come me? Io, ciao, io... Io si impazzisco completamente per Guerre Stellari. Per... Mi diverto la faccia a guardarlo. Io devo essere l'ultimo ad andarla a vedere? Ma perché? Cioè, te mi vuoi spiegare che siccome... No. Cioè, se ho capito bene, due anni fa, a Natale del 2013, avete fatto sborante mille, 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 mille. Con lo siedi, di soldi, con che cosalone? E quindi adesso dovete tutti gli anni, avete il cinema, avete tutti il cinema per voi perché dovete far uscire la vostra cazzata per far ridere tutti. Tutti. A questo motivo. Allora io protesto E allora io protesto Vigliac bosse protesto Protesto col popolo Col popolo di noi fans Di noi ventilatori Noi ventilatori del webs Faremo una roba che vi spacchiamo la testa a tutti Allora adesso voi andate in tutti i social Faccio boc E poi andate su Twitters Su Instagram Su tutte quelle cazzate lì Su Skype Su MySpace Andate sul blocco note Andate anche sul campo minato E qualsiasi cosa faccia Mettete il tag Cancelletto 1-8 dicembre la forza si risveglia Ovvero Cancelletto 18 dicembre la forza si risveglia Per far sì che anche noi Appare di tutto il resto di patata del mondo Che vogliono vedere questo film Lo possono vedere in anteprima Ma sapete perché questa cosa Voi che Secondo me Walt Topolino Pluto Pipo E macchia nera Voi non centrate Non ci tratta di niente in questo Secondo me Io vi voglio bene voi Perché sono cresciuto con le vostre cazzate Quindi vi voglio bene Secondo me Per voi è uno sputalamento incredibile Ma vi invitate La Disney Italia Che è l'ultima Disney a trasmettere guerre stellari Secondo me c'è qualcosa di più grosso di voi Perché Disney è qualcosa di Di Italia è una roba In tutto il mondo Ma in Italia è una cazzata Poco Siete poco Porca boy Ci vuole qualcosa di più Ci vuole Ci vuole guerre stellari Capito? Avete capito qual è Il discorso? Porca puttana Bigliacca boy Secondo me C'è qualcuno di sopra Le vostre parti Che ha prenotato Come dicevo prima Tutti i cinema Per fare i cine panettoni Cine pandori Cine panettoni Cine pandori Cine pandori Piace più il pandoro Pandoro Cine pandori Diamo spazio ai cine pandori Sì Una volta andai al cinema Che volevo vedere Episodio 1 in 3D Lo so Il film non è il massimo C'è quella cazzata Quella roba orrenda Di Giorgio e dei miei di Clorius Ma è lo stesso Guerra stellari Per me è la vita E sono andato a vedere lo stesso Ma dal cinema Ma dal cinema Non c'è mica il cinema Però c'era un film C'era un cine panettoni In 3D Ho guardato la cassiera E ho detto Senti scusi C'è l'episodio 1 Quello che hanno rifatto in 3D Un film della Madonna Sono i gari Con quegli sgusci là Che girano Tutte ste robe Le spade I mostri con le cose Che fanno mazzate Che c'è un sacco di paconi Che in 3D Ha senso il 3D No? C'è No guarda Non c'è Abbiamo sostituito la sala Con il cine panettoni Di questo Natale In 3D In 3D Come in 3D? Cine panettoni in 3D? Ma che cosa si tirano i piatti? Che cosa si mandano a cagare? Ma cosa fanno Col 3D C'è una panettoni? Ma cosa servono? Dai va là Dicassati Dimmi dov'è Ah guarda Noi abbiamo trasmesso L'abbiamo annullato E all'ultimo secondo Ma che cosa dici? Ma che cosa dici? E invece è vero Sono andato a casa Sono andato a casa Che mi sembrava Di aver mangiato Un crostaccio vivo Mi sembrava Di aver mangiato Un crostaccio vivo Ha capito? Aveva un nervoso Che ormai 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 Vomitava dal nervoso Pigliaca Della puttana Puttana miglia E la storia si ripete Stavolta però Ce lo dicono In ancini Ma c'è una cosa da dire Questi ragazzi Della Disney Ce l'hanno detto subito Quando hanno rilasciato La data di uscita Internazionale Il 18 dicembre Qualcuno sottovoce Ci ha detto Qualcuno da 5 gennaio Cioè non ho visto Dei banneroni giganti Da per tutti Nel sito In Italia No Ce l'hanno detto Sette voce Perché lo sapevano Che erano in colpa Vigliaco Questi poveretti Della Disney Italia Non infamate questi ragazzi Che stanno già facendo Un sacco Porca boia Questo è l'ario Non è mai stato così presente In tutta Italia Come negli ultimi Come dal 31 ottobre del 2012 Siamo onesti Forse Walt Disney Pluto Pivo Faberino Maccherera Non c'entrano niente Dai Difendiamo un po' loro Secondo me Voglio sperare Che sia qualcosa di più Che ci sia qualcuno Dietro Che abbia manipolato Questi sane Quindi io vi prego Cancelletto 18 dicembre La sforza Si Cancelletto 18 dicembre La forza Si risveglia 18 Cancelletto Cancelletto 18 dicembre La forza Si risveglia Hashtag Astagate Qualsiasi cosa Che fostate Astagatela E fate in modo Che anche noi Al pari Dei Djibuti Dello Zimbabue E delle Filippine Possiamo andare a vedere Star Wars Si risveglia La forza 18 In modo Di non doverlo Vedere nel compiuto Con In rumeno Con il sottotitolo In afgano Con la gente Che si alza Per andare a pisciare O che ride Perché O che ride Perché la nonna Pina Gli ha detto Che gli ha fatto La costata Di Mirtilli Il giorno di Natale Vi prego Non fateci Vedere in questo modo Vi prego Signori Chiunque di voi Sia Leghe questo annuncio Ok Cancelletto 18 dicembre La forza Di risveglia Lunga vita E prosperità Che E che la forza Sia con voi Amen Amen